Trova i gonfiabili di Deadpool allo yacht Per questa challenge dovremmo andare a trovare tre deltaplani di Deadpool Noi stiamo landando direttamente all'interno del primo punto Vi faccio vedere lo yacht, se non conoscete la sua posizione Si trova esattamente a nord della mappa di Fortnite Ora a me non mi appare nulla perché sto registrando questo video in anticipo Però esattamente in questo luogo sarà situato il primo gonfiabile che dobbiamo andare a prendere Ve lo faccio vedere all'interno della mappa Quindi mi raccomando eseguite il mio stesso percorso sotto questo ombrellone con telescopio Ok proseguiamo da quest'altra parte Ora dobbiamo andare a trovare il secondo gonfiabile Dovete fare il mio stesso percorso almeno sarete agevolati Mi raccomando vi ricordo se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi ora Almeno non rimanete indietro su nessuna challenge Qui in questa stanza dove sembra si stia per celebrare una cerimonia Andiamo a trovare il secondo gonfiabile di Deadpool che lo troveremo esattamente in quest'angolo Vi faccio vedere all'interno della mappa dove mi trovo E proseguiamo per andare a trovare l'ultimo gonfiabile In realtà all'interno dello yacht ce ne sono un altro, ce ne sono quattro Ma vi faccio vedere semplicemente questi tre Tanto la challenge richiede solo tre gonfiabili Il terzo ed ultimo gonfiabile si troverà esattamente seguendo il mio percorso sotto questo ombrellone Quindi proprio qui troveremo il nostro ultimo gonfiabile di Deadpool Vi apro anche la minimappa Mi trovo in questo punto dello yacht Se vi servono i video di tutte le challenge di questa settimana e anche della prossima Le trovate già sul canale Quindi mi raccomando se siete nuovi iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche E vi ricordo inoltre che ogni giorno sto regalando dei pass battaglia O delle skin a vostro piacere all'interno dei negozi oggetti Ci sono tre passaggi fondamentali da eseguire Quindi dovete essere iscritti al canale e aver attivato la campanellina delle notifiche Aver droppato like a tutti i miei video E all'interno del supporto a un creatore utilizzare il mio code R4SCO Una volta che avete fatto tutti questi passaggi Potete ottenere di diritto il pass battaglia o una skin a vostra scelta Io vi lascio con altri video e... Le stra!